ma forse non è tristezza ma soltanto una sorta di furore non so persone come me hanno sempre trascurato l'anima e se ne rendono conto quando l'anima comincia a soffrire capisci che intendo vero? si capisco ecco forse si comincerà piangendo un pianto che è sempre così strano quando prolunga